Ciao a tutti, oggi prepareremo i muffin al limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Ingredienti sono farina doppio zero o farina verdolci, amido di mais, zucchero, scorza e succo di un limone, burro morbido, uova, latte, yogurt al limone, lievito per dolci e una fialetta di essenza di vaniglia. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza del limone. Chiudiamo con il coperchio il misturino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Aggiungiamo le uova. Chiudiamo con il coperchio il misturino e azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità 5. Aggiungiamo il burro, il latte, l'olio augurto, il succo del limone e l'essenza di vaniglia. Chiudiamo con il coperchio il misturino e azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità 5. Aggiungiamo la farina, l'amido di mais e il lievito per dolci. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto e mezzo a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo in dei pirottini per muffin. adesso li cuoceremo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti circa. Muffin al limone sono cotti lasciamoli intiepidire prima di servirli. Muffin al limone. Grazie e alla prossima ricetta. Muffin al limone. Grazie a tutti.